Sono le 6 della mattina a Kiev, è il giorno dell'apertura dei seggi elettorali in Russia. Per la seconda volta suona l'allarme. Una prima volta è stata verso le 3 della mattina qui a Kiev. Sentite le sirene. Il coprifuoco è stato tolto da poco. Il coprifuoco notturno finisce alle 5. Sappiamo c'è tensione. Ci sono operazioni militari dei legionari russi filo-ucraini che operano la zona di Belgorog, di Kursk, nel nord e nell'est del paese. Sono entrati in Russia. Gli ucrini hanno attaccato negli ultimi tempi le centrali elettriche, le centrali e soprattutto i centri di raffinazione del greggio, le grandi raffinerie. E questo naturalmente ha creato ulteriore tensione. Non è così frequente negli ultimi tempi che suonino gli allarmi nella capitale, ma ripeto, oggi torna nelle prime ore della giornata già due volte.